Per la prima commissione il raggiungimento del numero legale è stato possibile solo con un collegamento dal marciapiede, come direbbe la consigliera Bianchi, ovvero una corsa dalla centrale Piazza Garibaldi a Palazzo San Francesco da parte del consigliere Franco Di Rocco, che ha raggiunto l'ex sindaco Bruno Di Masci per farlo collegare con il telefono e rispondere all'appello della Presidente, Katia Di Marzio. Poi per la seconda commissione l'aula si è svuotata, la seduta è andata deserta, la maggioranza di Palazzo San Francesco resta in evidente difficoltà, stento, riesce a garantire stabilità per la tenuta dei numeri. La scena sui generis del collegamento da corso video è una prova lampante, anche se due consiglieri collegati da remoto hanno potuto interagire e rispondere all'appello, per cui la procedura risulta corretta e legittima, ma non cambia il risvolto politico della vicenda. Una seduta accesa e animata, soprattutto per l'emendamento sulla convenzione con la tesoreria comunale. La consigliera Bianchi aveva proposto rendire un'indagine di mercato per evitare di affidare la tesoreria a un istituto bancario, che non ha lo sportello in città o solo gli istituti telematici, a tutto svantaggio della fascia di utenti che non ha le possibilità per digitalizzare. Non possiamo, a prioristicamente, escludere degli operatori, interviene la segretaria generale Nunzia Buccilli, chiarendo che la commissione approva solo il rapporto tra comune e tesoreria, mentre ufficio e giunta inseriranno nella gara il requisito dello sportello come criterio premiante. Nessuna volontà politica di delocalizzare la tesoreria, ha chiarito il sindaco Anna Maria Casini. Ma le scintille non sono mancate, soprattutto sul punto del dove volete andare a parare prima di una gara pubblica. Allora noi vogliamo capire oggi quali sono le condizioni attuali, vogliamo capire quale è l'indagine di mercato, qual'attualità del mercato ci dovete rappresentare prima di fare questa convenzione. Noi non vogliamo riposare la nostra, non vogliamo riposare prima a che cosa andiamo incontro, anche per decidere se forla o meno l'esternalizzazione, perché guardate un po', potremmo anche decidere di tenercelo per l'intero questo servizio. Noi non ci avete detto nella proposta di delibera perché è assolutamente necessario esternalizzare questo servizio. Lo vogliamo dire ai consiglieri comunali, alla città di Suluna? Ma noi non siamo una banca, ma è un obbligo di legge, consigliera, che sta dicendo? È un obbligo di legge, la tesoreria è un obbligo di legge. La relazione del sindaco, io ci tengo, guardi segretario, qua dobbiamo uscire fuori dall'ipocrisia. No, appunto, lei non ci deve permettere di dire a prefunzionari pubblici dove volete andare a parare prima di una gara pubblica. Non glielo consento, non glielo consento. Dove andate a parare? Lei non lo sa dove vado a parare io, io vado a parare dove mi porta l'interesse pubblico. No, lei va a parare a Pescara, no, perché lei va a parare a Pescara e si è chiarito subito. Consigliera, adesso, adesso, mi vergogno di quello che ha detto e non le rispondo. Mi vergogno per lei, me lo consento. No, io non mi vergogno per niente, segretario, invece. Questa è il problema? La città di Sulmona, a differenza di lei. Poi è arrivato il punto della convenzione tra il comune di Sulmona e la provincia di Pescara sulla segretaria a mezzo servizio, ovvero tre giorni a settimana, a riguardo la consigliera Bianchi ha fatto notare un problema di blackout sulla piattaforma streaming che non risulta però al neopresidente della commissione, Franco Di Rocco, eletto proprio questa mattina. Il numero legale è mancato per la seconda commissione che dovrà essere aggiornata.